La comunicazione di qualche giorno fa da parte del Ministero della pubblicazione di una graduatoria dei bandi del PNRR che ha visto il Comune di Bari e AMIU candidare la realizzazione di isole ecologiche interrate nella zona centrale della città, quella strapiena di negozi dove nessuno vuole i cassonetti dinanzi alla propria attività commerciale penso alla zona murattiana, la zona umbertina e delle isole ecologiche di prossimità per i quartieri immediatamente limitrofi come Libertà, come Madonnella e come quella fascia di città che sta subito dopo l'estramurale Capruzzi quindi quella parte di San Pasquale Bassa, Carrassi, un po' di Picone eccetera. Pensare ai cassonetti interrati mi rimanda un po' alla fantascienza, in realtà se sono candidati al bando PNRR significa che nel 2026 li vedremo realizzati. No, certo, certo e qualcuno me l'ha anche segnalato in queste settimane non c'entrano nulla con i vecchi canguro della vecchia AMIU di ormai più di 20 anni fa quelli che si incastravano, che insomma venivano, andavano, non si utilizzavano subito dopo No, queste sono cose completamente diverse, si aprono con la tessera sanitaria e quindi hanno un'apertura intelligente per dare la possibilità non a tutti di conferire rifiuti ma solo a quelli che ne hanno diritto in quella porzione di territorio Grazie! 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 Grazie!